Si, e io che sta mangiando la malattina, non è finito che mi ha detto... ... l'abonco, in continuazione, l'abonco, anche il vettio di alzorno, anche il vibrazione del monesto, anche il vibrazione del tono, e io che sta mangiando i fri... ... per la dottima, per il tuo rapporto... ... per la dottima, però questa è la via di specializzazione. Il maianismo è venuto nella palla, ha detto che... ... ma che non è possibile, non è fatta essere una manccia del cosiddetto. una mancina delle cosiddette e che dà una mancina di continuazione, 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 continuazione. E l'ora rimane, l'ora rimane, anche dopo un quel po', il l'asperamento, che non supera, anche così. L'ora un posto, non c'era un altro, non c'era un altro, non c'era un altro, non c'era un altro. Io credo, no, anche se lo credo, che questo sia un problema. Non c'era un altro, non c'era un altro, non c'era un altro, non c'era un altro problema. Anche a questo è di maggioranza, quindi non è con qualcuno, mi erano chiesto a pagher. Un altro, non so, deve distruggere, deve completare, deve distruggere il problema dell'interno. Per motivi personali, come si dire, o con l'ultimo distinto, non ci siamo poi, poi ci sono, ci siamo poi, 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 ci siamo poi. Abbiamo cercato di rispondere al prossimo Consiglio Comunale. Io intanto credo dovrei dire qualcosa rispetto a quando è stato scritto sui giornali, rispetto a delle considerazioni fatte in Consiglio Comunale, ma rispetto soprattutto alla lima che si è creata all'Ossiglio Comunale, con le prime comunicazioni, adesso con queste risposte. Allora, è chiaro che oggettivamente ci sono problemi politici a livello nazionale, provinciali, che si ripercuotono. Quanto a destra, quanto a centro e quanto a dimostrare, questi problemi sono sotto gli occhi di tutti, sono oggetto di discussioni nelle varie tradizioni pericolose.